ciao ragazzi volevo volevo grattare un gratta e vinci con voi questa è una rosa vostra per voi ragazzi è offerta allora prendiamo il gratta e vinci prendiamo il gratta e vinci che sarebbe un turista però se vedete è un po lungo sto turista qua tiriamo via uno tiriamo via e allora possiamo iniziare anche a grattare prima di grattare volevo ricordarvi una cosa volevo ricordarvi di iscrivervi al canale lasciare un like e attivare la campanella cercavo la moneta che non la trovavo allora iniziamo 18 13 26 37 23 32 33 14 turista 42 45 17 non è vincente iscrivetevi al canale mi raccomando e attivate la campanella un fiore a tutte le donne che mi seguono e grazie ciao anzi un momento eh e madonna sarà finto ciao ragazzi allora oggi volevo farvi vedere un gratta e vincere un gratta e vinci appena grattato che praticamente si vede già che ho vinto 10 euro però volevo aspettare a voi infatti la vincita è di 10 euro beh la vincita non è male adesso ne grattiamo un altro questo qua allora 27 34 36 40 18 26 37 22 31 vogliamo grattare di qua 19 23 28 e a quanto pare non è vincente allora vi volevo ricordare di iscrivervi al canale lasciare un like e attivare la campanella e nei commenti lasciate scritto cosa ne pensate grazie a tutti ciao ciao ragazzi e volevo dire che volevo dire che questa è una carta magica quella se io faccio così così vieni lei si solleva vieni ruota 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 girati vedete ragazzi sembra una cavolata ma questa è pura magia ruota 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 vai ok perfetto volevo dirvi iscrivetevi al canale lasciate un like scrivete nei commenti qua sotto cosa ne pensate e attivate la campanella ciao grazie a tutti